ciao approfondiamo di nuovo un po meglio in modalità 2d animation come possiamo disegnare sui vari fotogrammi delle cose diverse quindi ho aperto blender in questa modalità o lo strumento matita che è uno strumento che non disegna in maniera molto pesante quindi vado ad aumentarlo per poter disegnare un po più forte e sono già in in draw mode e quindi posso già disegnare mi trovo sul fotogramma 1 e appunto posso fare il mio primo disegno per esempio questo cerchio voglio fare una palla che rimbalza ora quindi devo spostarmi in fotogrammi successivi per poter disegnare i momenti successivi della palla allora questa impostazione è normalmente a 24 fotogrammi al secondo quindi significa che quando avrò fatto 24 disegni quando questo cursore è arrivato a 24 sarà passato esattamente un secondo normalmente quando disegniamo un'animazione disegnata a mano sono tanti 24 fotogrammi al secondo da disegnare per cui tipicamente quello che succede è di saltare qualche fotogramma e di disegnarne per esempio uno ogni due o uno ogni tre si può eventualmente anche qui cambiare la velocità e scegliere custom e mettere per esempio 12 fotogrammi al secondo comunque lasciamo tutto in maniera molto standard e vediamo un attimo come pare una piccola animazione nel modo più semplice possibile abbiamo disegnato una palla facciamo che debba toccare terra dopo mezzo secondo e quindi al fotogramma 1 disegno la palla e il terreno dopo mezzo secondo quindi al fotogramma 12 volendo posso zoomare anche qua sotto control e trascino mi sposto al fotogramma 12 vorrò che la mia palla sia qui per terra è un po schiacciata perché ha toccato terra e quindi si è schiacciata al fotogramma 23 magari è risalita prima di arrivare al 24 diciamo al fotogramma 23 è arrivata qua nella posizione diciamo finale notate che come al solito rimane il disegno precedente quindi ho disegnato queste tre posizioni base posso mettere il valore finale a 24 e in questo modo la mia animazione dura solo 24 secondi se faccio play vedo i tre disegni che ruotano e si alternano ovviamente a questo punto devo disegnare i punti in mezzo quindi se al fotogramma 12 la palla è schiacciata diciamo un paio di fotogrammi dopo starà ripartendo verso l'alto e un paio di fotogrammi prima sarà qui un attimo prima che tocchi terra a circa metà strada qui si troverà quando cade non esattamente a metà strada perché una caduta ha un andamento più rapido nella prima parte potrebbe trovarsi circa qui e circa metà strada qua potrebbe trovarsi all'incirca qui poi posso mettere i fotogrammi in mezzo a occhio quindi diciamo così adesso sto disegnando in maniera molto veloce semplicemente per mostrarvi il criterio se adesso faccio play di nuovo ecco che la mia palla che rimbalza e ovviamente poi l'animazione insomma potrebbe proseguire quindi vedete non ho disegnato tutti i fotogrammi ma l'impressione è comunque quella di un'animazione fate anche caso che mentre faccio play che si può fare anche con maiuscolo spazio spariscono il fotogramma precedente e il fotogramma successivo abbiamo un piccolo problema il pavimento l'ho disegnato nel primo fotogramma e poi non c'è più però il pavimento rimane sempre quello posso allora andare in edit mode nel fotogramma iniziale dove ho il pavimento e la cosa più semplice è semplicemente copiarlo con copia con c per copiarlo spostarmi nei fotogrammi successivi e si può utilizzare la freccia verso l'alto e verso il basso quindi sulla tastiera freccia sinistra e freccia destra si spostano di un fotogramma avanti e indietro mentre freccia giù e freccia su ci spostano al prossimo keyframe quindi ora mi metto qui e lei e incollo di nuovo tutti gli stroke in tutti i fotogrammi dove mancano torre incollando gli stessi stroke ecco adesso che l'ho fatto posso uscire dall'edding mode tornare in raw mode e adesso quindi ho ricopiato gli stroke del pavimento su tutti i fotogrammi ovviamente non è proprio il modo più veloce per farlo però è per farvi vedere che può essere un modo per evitare di dover disegnare la stessa cosa molte volte questo può essere un primo modo per iniziare ad animare grazie e alla prossima